amiche amici del corner Sampdoriano bentornati dura molto difficile fare questo video non tante cose da dire non mi sembra il caso di entrare nell'analisi come facciamo di solito perché insomma quello che è successo al Dallara è abbastanza chiaro lo dice solo in parte il risultato è stato un secondo tempo sconfortante una figuraccia l'ennesima che certifica forse l'ennesima figuraccia no però insomma non è la prima di questa stagione e di questa gestione tecnica con Marco Giampaolo non sovverte la tradizione di Bologna che continuiamo a portarci avanti problemi sempre i soliti se ne aggiunge qualcuno perché sappiamo che questa è una squadra tremendamente sterile è una squadra che gli ultimi gol che ha segnato ci stavo un po' ripensando scorrendo con la memoria all'indietro i due pesantissimi a Venezia sono arrivati su due mezzi regali della squadra di Zanetti contro la Juve si è segnato su un calcio di punizione deviato di Sabiri per gli ultimi gol diciamo un po' puliti bisogna risalire alla gara alle gare con l'Empoli col Sassuolo l'avevamo detto gli unici casi in cui si sono trovate squadre un po' più aperte un po' più scoperte quando c'è da attaccare difese schierate questa squadra non ha soluzioni questa squadra non crea è troppo prevedibile non ha proprio idea di come si possa aprire la scatola difensiva avversaria oggi e mi duole moltissimo dirlo perché so che è un argomento che per carità io rispetto totalmente quando viene portato da osservatori e tifosi soprattutto ma io non insomma non mi appassiono a questo tema il famoso discorso della grinta e della voglia che è una cosa che io faccio fatica a giudicare perché secondo me non ci sono sempre gli elementi per farlo oggi però si è visto è stato lampante l'energia che metteva il Bologna nei contrasti nelle famose seconde palle era 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 tripla rispetto a quella messa dai giocatori della Samp primo tempo è stato equilibrato anche se il Bologna ha dimostrato di essere più sciolto e di poter arrivare comodamente dalle parti di Audero sui singoli difficile entrare Sensi si sta intristendo in questo ambiente non trova nessuno che parli la sua lingua calcistica forse soltanto Sabiri che anche però lui dopo un inizio promettente con la maglia della Samp si sta un po' appiattendo normalizzando e diciamo allineando al grigiore generale ovviamente sono anche serate storte anche se vietatissimo parlare di sfortuna o episodi perché poi il Bologna insomma ha preso due traverse poteva fare il terzo gol comodamente poteva fare il secondo prima quindi insomma non se ne parla una sconfitta strameritata appunto anche stretta probabilmente nel punteggio per quello che si è visto soprattutto nel secondo tempo diciamo che l'emblema della Sampdoria di adesso è la prestazione di oggi di Ciccio Caputo che ha sbagliato tutto lo sbagliabile eh ha perso clamorosamente il duello con Sumauro pur mettendoci l'impegno questo però non toglie che abbia sbagliato tutto lo sbagliabile finendo spessissimo in fuorigioco e mangiandosi un'occasione pesante sullo zero a zero a tu per tu con Skorupski e non è la prima volta che gli capita Caputo quando arriva davanti al portiere spesso ci arriva un po' in affanno non pulito e non calcia bene verso la porta e quindi questa è un po' l'impressione a livello di episodi che potevano andare meglio ora io non ho capito perché non ho sentito bene il motivo della sostituzione di Ferrari che era l'unico che salvavo in questa in questa gara è stato tolto dopo un'oretta è entrato Yoshida che insomma è stato coinvolto in senso negativo sui due gol e soprattutto nel secondo ha fatto veramente una figuraccia due a zero dimenticare subito io l'unica cosa che dico è ovviamente ora ci si fa prendere dallo sconforto è normale si cerca il colpevole ci sta ce ne sarà sicuramente più di uno perché colpevole la guida tecnica colpevoli giocatori il mercato di gennaio soprattutto dal punto di vista offensivo per vari motivi sappiamo che non sta decisamente pagando però c'è da rimanere uniti le solite cose che diciamo sempre per portare a casa questa salvezza che rimane possibile soprattutto per i risultati delle altre più che per i punti raccolti e le prestazioni offerte dalla Sampdoria di Giampaolo video che già finisce qui molto breve tanto c'era da dire pure troppo cinque minuti scarsi sono pure troppo se volete commentare qui sotto fatelo ma forse è meglio di no grazie lo stesso per la